... Vai come vuoi, era questo il titolo e l'invito della manifestazione podistica che si è tenuta ieri a Sant'Olcese, nell'entroterra di Genova. Si trattava della prima tappa di Correre Insieme, progetto coordinato dall'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, con 14 tappe in tutta Italia. Lo scopo è benefico, si partecipa per solidarietà e per rilanciare i valori positivi dello sport e il ricavato dalle quote di iscrizione è destinato a progetti non profit del territorio. Nel caso di Sant'Olcese i fondi andranno alla Ollus Gigi Ghirotti per avviare una nuova equip interdisciplinare per l'assistenza dei malati di SLA. Attualmente l'associazione segue una quarantina di malati a domicilio e negli hospice di Albaro e Bolzanetto.